Sì, importante questo momento che fa parte della visita dell'Aggiunta Nazionale in terra di Calabria e che non poteva far mancare il suo appuntamento nella capitale italiana del libro, Vibo Valencia. E per noi è importante presentare questo libro che è stato la settimana scorsa presentato in Senato, rappresenta il meglio delle Proloco, l'espressione di tre anni di lavoro svolta dalla CGA di Mestre, che ringraziamo, per aver fatto emergere dei numeri straordinari del mondo delle Proloco, numeri straordinari che rappresentano al meglio il grande valore socio-economico e culturale che hanno le nostre realtà in ogni luogo. I contenuti di questo libro parlano da sole, dati pre-Covid, l'UMPLI e le Proloco hanno organizzato qualcosa come 110.000 eventi in un anno. Parlando solo dell'ambito delle sagre, che sono 20.000, ha un ritorno economico per i territori di oltre 2,1 miliardi di euro. Soldi che vanno a essere direttamente interessati dalle nostre aziende, da tutte le attività turistiche di ogni luogo. Quindi un momento fondamentale che non poteva mancare qui a Vibo Valencia.